In questo mio nuovissimo video Oggi, come tutte le volte, siamo qui Cioè, come tutte le volte Come quando mi succede di comprare qualcosa Siamo qui a fare l'unboxing di un mio nuovo acquisto Un nuovo ventilatore Mi raccomando, prima di iniziare questo video E prima di vedere cosa c'è effettivamente nella confezione Vi invito a lasciarmi un bel like A iscrivervi al mio canale se non l'aveste ancora fatto E a condividere questo video su tutti i vostri social network Cosicché potete aiutarmi a crescere sempre di più Dato che in questo periodo sto vedendo che stiamo crescendo abbastanza Quindi sostenetemi e cresciamo sempre di più insieme Per anche farvi vedere più video con più qualità Direi quindi adesso di non perdere tempo e cominciare subito Intanto io ho qua il pacco alla mia sinistra E gli sto levando tutte le cartacce Tutti gli scotch Dalla confezione Ok No, non l'ho levato tutto Però va bene Oh signore Allora E' grandissimo Quindi nell'inquadratica Non c'entrerà mai Questo lo leviamo perché tanto non Cioè E' poco potente Quindi purtroppo non posso farvi vedere tutto il pacco Tutto il pacco è questo Ma No Quindi la prima attimo che lo apro Almeno Cioè Dicevo levo Il Ok Ok Bravo Perfettissimo Allora Adesso lo posso scrivere anche fuori Ecco Anche questo pacco ragazzi è gigantetto È gigantetto Mi sapevo non l'hanno visto quanto potrebbe essere Scusatemi Ora L'ho rivolto Un attimo Ok Questo è il pacco gigante Lo lancio a voli E va bene Oh mai Oddio Questo è il pacco gigante Del mio ventilatore Allora Sì non mi si sarà visto molto Però ragazzi È gigantesco Non sapevo come Non so come mostrarvelo Allora Aspetta 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 Un attimo No E dai Avriti Ok Questo video Dove erano eternità Eh E sono più che sicuro Eh Ora basta Odio Sì lo so che esiste Ebbene Fortelli Quella roba lì Ma io Naturalmente Un attimo Un attimo Di picciolotto Usare Comunque Finalmente I aperti Ecco qua Finalmente Allora Prima parte Questo Lo si go fuori Questo è il Sì Presumo Sia il Cosino Per Per Montarlo Sì Questo è il piede Insomma La gamba Fuori Questo Dio Scusa Un terremo Questo C'è caro anche Non lo vedo Sì lo dico fuori Sì lo dico fuori Il piede Ottimo 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 Poi È gigantesco Un'estero Indiratore Poi Ottimo Qui dentro Ci sono Tutte le pale E ci sono Anche Queste Le viti Sì Qui ci sono Le viti Insomma Un po' Di cosine Uh C'è anche Un telecomando Attenzione C'è anche Un telecomando Ecco C'è anche Questo Come Vedete Insomma Ora aspettate un attimo Io metto in tega Un attimo Il pacco Perché se no Qui Non mi prendo Di niente Ecco qua Molto bene No Questo Dove Che stare qui Quindi Qui c'è Tutte i viti Spacchi E Signore Ma che cazzo Hanno Perché Sto collegati Insieme Ok Poi Qui dentro Invece Ci sono Tutte le Tutte le Cosi Ok Vedete Questa è La copertura Insomma Ok Poi Adesso Andiamo a tirare fuori Il pezzo forte Ossia Questo Ossia Questo Questo È il pezzo Grosso Perché È quello Dove Qui Ci si attaccano Tutte Le grefelline Dove è quello Che gira Insomma Ok Tu metto Qui E poi Nella scatola In realtà Non dovrebbe esserci Altro A regola No Infatti Nella scatola Non c'è Non c'è Altro Via Qui Nelle rassuoli Questo mio Video Termina Qui Se vi è piaciuto Lasciatemi Un commento Un like Iscrivetevi Se non l'avete Ancora fatto E non come al solito Ci vediamo In un prossimo video Ciao Interrumpo Zoom Interrumpo